La situazione è una situazione per ora provvisoria perché sono stato a parlare ad ANAS e da un lato mi hanno rassicurato sul fatto che l'installazione adesso che è sulle ciricate è assolutamente provvisoria, non sarà quella l'installazione definitiva, comunque ho rappresentato la necessità e l'importanza di incontrarsi, incontrarsi tra tutte le parti coinvolte affinché si possa trovare una soluzione condivisa perché da un lato deve essere contemperata la sicurezza delle persone, dall'altro lato le esigenze dei residenti, quindi problemi legati alle banchine, a problemi legati di sicurezza su quella strada, nessuno nega che quella strada ha dei problemi legati alla sicurezza, bisogna capire adesso qual è il modo migliore per andare incontro ad entrambe le parti, più c'è tutto il problema legato ai corridoi ambientali, al problema degli animali e alla vicinanza con il parco. Io auspico e da questo devo dire che ho visto una buona disponibilità da parte di ANAS a rimettersi a sedere con i soggetti coinvolti affinché si possa trovare una soluzione condivisa. Le rotatorie sono state concordate tra l'amministrazione e ANAS ricevendo le richieste dei cittadini, dell'ente parco e del quartiere, quindi sinceramente sono anche un po' stupito che sembra come se l'amministrazione non fosse conoscenza di questa cosa. Sono stati fatti tantissimi incontri tra le parti, uno anche un mese e mezzo fa, due mesi fa, dove ANAS ha illustrato questo progetto e ha accolto le osservazioni fatte dalle parti coinvolte in relazione alle rotatorie. Quindi si cerchi adesso subito di trovare una soluzione per uscire quanto prima da questo impasse.